a milano la madunina e la fiera del games week anche quest'anno come l'anno scorso avremo un appuntamento fisico dove incontrarci non su youtube o su twitch ma in real life come si facevo una volta una roba vecchia quasi antica che però ogni tanto fa piacere dai a parte le scemenze comunque in questo video volevo informarvi che sia appunto questo weekend sarò presente alla games week di milano arriverò circa all'ora di pranzo di sabato per poi stare tutto il pomeriggio e la sera non so poi fino a che ora sarà aperto comunque noi saremo lì io riparterò poi domenica alle 14 quindi sarò a milano anche la mattina ma vedrò se è il caso di tornare in fiera oppure farmi semplicemente un giro in centro dipenderà non lo so ancora come faremo ad incontrarci allora io cercherò di aggiornare il più possibile il mio instagram con storie e post anzi da sabato in poi cercherò di farlo il più possibile perché sono consapevole di averlo fatto poco nell'ultimo periodo e di averlo lasciato un po indietro rispetto agli altri social quindi seguitemi su instagram per 1 sapere dove sarò di preciso durante questo weekend 2 per seguirmi praticamente live se non riuscite a venire però chissà magari ci scappa anche una live su twitch non so la sera dipende dipende regà dipende dipende alla games week so per certo che ci sarà the division 2 che non vedo l'ora di provare con mano finalmente sarà la mia primissima tappa quando arriverò quindi ci vediamo lì cercherò di spolparlo il più possibile in modo da poi darvi una mia first impression appena subito poi tornato a casa dovrebbe esserci anche activision con destiny 2 che naturalmente visiteremo e poi l'arena per gli sports e tutti gli altri stand insomma ci sarà da vedere e provare un sacco di roba io quindi vi aspetto su instagram trovate il link in descrizione oppure basta che cercate giorno gaming dappertutto insomma mi trovate io spero di incontrarvi uno per uno per ringraziarvi del supporto costante e giornaliero che mi date quindi vi ricordo che sarò a milano sabato dall'ora di pranzo in poi e poi la domenica mattina noi ci vediamo appunto sabato ciao